Ciao a tutti! Oggi prepareremo le crispelle di San Martino. Il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa. Gli ingredienti sono latte, lievito di birra fresco, olio evo, zucchero, farina di tipo 00, sale, pasta di limone o scorza di limone. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimbi per due minuti, 37 gradi, velocità a 3. Aggiungere la farina, la pasta di limone, l'olio, e il sale. Ed azionare il bimbi in modalità spiga per 5 minuti. Lasciare riposare nel boccale per 5 minuti. Trascorso il tempo, azionare nuovamente il bimbi per 5 minuti, valida spiga, successivamente lasciare riposare altri 5 minuti e ripetere l'operazione. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento con luce accesa per almeno due ore. Formare le crispelle e friggere in abbondante olio caldo. Il bimbi per 2 minuti e riposa per 4 minuti. Il bimbi per 2 minuti, diversità a 4 minuti. Ero i 10 minuti. Il bimbi per il bimbi per 5 minuti. Crispelle di San Martino Grazie e alla prossima ricetta Grazie a tutti